Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre. Quello che è appena sentito è il messaggio con cui Pertini diffonde al microfono di Radio Milano Liberata lo sciopero generale intimando le forze nazi fasciste la resa incondizionata. Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato il 25 aprile del 1945.